Hey, nothing you can say, nothing's gonna drain what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Ok, lasciamo perdere l'ultima cosa che è successa, si è rovinato un pezzo di gioco, si è smentito da per sé, vabbè E quindi adesso, esatto, non posso più evitarle queste cose, oh cazzo, che fatica però Ma chi è che costruisce quei cosi? Ci sono le ringhiere ovunque tranne dove debbano esserci Oh, c'è un robot di quali grosse Non sono morto, questo è un miracolo Vabbè, tu eri una schiappa, facevi un attacco alla volta C'è un pugno solo, no, non un attacco alla volta Quindi peggio ancora Sì, questo qui è palesemente un muro segreto Cioè, non vi sforzate neanche Ne abbiamo sette Sai chi non sa quanto dura ancora questo gioco? Siamo al dodicesimo capitolo Non so se riuscirò mai a prenderle tutte Ehi, sono i fin di vita, l'ho notato adesso E te pareva Buona Oh, quello con la trivella era rompicoglioni Come quello lì con la granata Ok Beh, tu non sai niente di che Sei solo un rompimaroni che ti devo fermare mentre attacchi Cresciamo ancora un po' No, come mi hai preso al volo, bello Non è morto E ora non lo vedo Ok C'è un filmato? Sì Minchia Devono esserci dispositivi d'emergenza per chi ha costruito questa aeronave Levitatori Levitatori? Questi sono l'ideale Ti va di provarli? Uno Due Salta! E a me no Eh, io scendo con gentilezza Cazzo me ne fotte a me di un levitatore Oddio Mi fa paura scendere con la roba lì così Andiamo con calma qua Certo che far volare una cosa del genere Oh porca Ma stiamo scherzando? Ma voi siete pazzi Piuttosto mi faccio subire un danno Ma qua non cado E ovviamente ci hanno messo i robot Perché a loro che cazzo gli hai fotte Aiuto E vabbè guarda qua Aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Mamma mia Che quello là lo lasciamo lì Cioè proprio Io voglio di cadere a pari zero E vabbè Ma questi levitatori sono forti Mamma Aiuto Soffro di vertigi Ecco Proprio Ah ma queste sono fisse Pensavo anche queste fossero Guarda chi c'è Mamma mia Ho veramente paura a cadere qui Mamma Il problema è che se fai una mossa falsa Cadi Ok ci siamo No Maffanculo Pensavo di essere arrivato Oddio Ci mancava solo questo Fermati Non ci sono le barriere nei punti giusti Quello è una finta Ma serve quello là Mamma Mamma mia Knack non ti caghi addosso Io ho abbastanza Oh Mamma Mamma Davvero Chi ha costruito sta cagata Oh 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 Ah Ah Possiamo respirare I caghi ci sono reperti Saranno sopra? Sì Che cazzo è? Ma mi ha colpito Io che penso Che fossi assicuro Salve Vedete gli sparacchioni Non volevo distruggere quali mai nella vita Buona 8-8 Voglio solo vederlo Poi magari Questo era bello di segreto Ciao amico Dov'è che sono noi? Ah, qua dietro Filmato Questa aeronave va dritta verso la miniera di Trocdon Victor non ha di certo perso tempo Interessante Sorvoleremo il territorio di Gundar tra pochi minuti E quindi anche la fabbrica? No Saremo in tutt'altra zona A meno che io non faccia Questo Vuoi andare a salvare Charlotte? Se non recuperiamo la chiave Può succedere di tutto Eh sì, certo Prima la chiave e poi Charlotte Però sbrighiamoci, ok? Dopo di te, Doc Hmm Grazie a tutti.